Ci abbiamo provato fino alla fine, volevo andare una gioia ai nostri tifosi per festeggiare degnamente quest'annata. Ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo poi gli episodi ci sono stati sfavorevoli, però ci abbiamo messo il cuore e ci abbiamo provato fino alla fine. Una manifestazione d'affetto reciproca bellissima all'inizio, durante anche la fine della partita. L'avete capito che la città è comunque orgogliosa di voi, di quello che avete fatto quest'anno? Io che sono arrivato quest'anno sinceramente l'ho capito dalle prime partite, anche se i risultati non arrivavano, lo stadio e la tifoseria erano con noi e ci ha sempre sostenuto. Quindi li ringraziamo, sono stati fondamentali per noi, per darci la tranquillità quando le cose non andavano bene, di sentirsi appoggiati e in parte soprattutto dedicata a loro questa salvezza.